Si parla di sicurezza sul lavoro, è una manifestazione molto importante quella di oggi che rientra appunto nella settimana per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro. È un'iniziativa che è stata organizzata in tutte le città italiane a livello nazionale da CGL, CISL e UIL, Unitaria, appunto per focalizzare l'attenzione su un tema strategico che è quello della salute e della sicurezza sul lavoro. Diamo alcuni numeri per renderci conto anche del fenomeno. Quest'anno, il primo trimestre, gennaio-marzo 2021, nella regione Lazio ci sono stati 19 infortuni sul lavoro. Lo stesso trimestre dell'anno scorso, il 2020, quando ancora gli effetti della pandemia non si erano fatti sentire, erano stati 7. A livello nazionale parliamo di 185 nel primo trimestre contro 166 dello scorso anno, quindi anche qui un più 19. Sono dati che ci devono allarmare. Purtroppo questa settimana è stata organizzata addirittura prima della tragedia che ha colpito il nostro paese di Stresa e con l'occasione mi preme esprimere a nome di tutti noi il cordoglio alle vittime, alle loro famiglie e focalizzare l'attenzione su questi temi. La sicurezza non può essere considerata un costo ma un investimento. In questo paese ancora troppi sono i morti sul lavoro. Fatalità poi quando avvengono infortuni e muoiono persone in eventi, tutti si indignano, però se andiamo a analizzare con attenzione i dati tra infortuni sul lavoro e malattie professionali che anche generano ad esempio tumori, se pensiamo al nostro territorio abbiamo a Civita Castellana, il silicio che causa importanti malattie, tumori polmonari, abbiamo una situazione drammatica sulla quale è tempo di intervenire mettendo in campo risorse, operatori anche nelle asle che si occupino un po' di prevenzione e diano quindi un contributo importante e soprattutto ci vuole maggiore vigilanza. Si parla del problema delle morti sul lavoro, noi diciamo da sempre che la will viene prima di tutto e non è possibile andare a lavorare e non tornare più a casa. Oggi nel 2021 non è più possibile questo, è una questione di civiltà, è una questione di responsabilità. non ci possiamo più permettere queste stragi sui morti di lavoro, il vero problema è che mancano ispezioni, ci servono più ispezioni, serve più informazione e più formazione, a iniziare anche dalle scuole. È importante che la sicurezza sul lavoro diventi un tema fondamentale per tutto il mondo del lavoro perché morti sul lavoro non ci devono essere più e quindi noi ribadiamo zero morti sul lavoro.